Grazie, autorità tutte, innanzitutto sono lieto di portare i saluti della sindaca Virginia Raggi e di Roma Capitale in occasione di questa importante presentazione dell'annuario dei dati ambientali e del rapporto ambiente di sistema. Vorrei soffermarmi su un principio che è già stato ricordato, fondamentale, e cioè la necessità di assicurare l'omogeneità e l'efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche che le amministrazioni comunali in particolare esercitano, politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione e tutela sanitaria e tutela della salute. In particolare i cittadini, i nostri cittadini, sono i primi fruitori di questi servizi ed è importante che la legge abbia tradotto questo principio in un parametro di misurabilità, individuando appunto i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, sia in termini qualitativi che in termini quantitativi. Come Roma Capitale siamo fortemente impegnati nell'attuazione di politica della sostenibilità attraverso un ruolo fondamentale della città, sia con il piano per la gestione sostenibile dei materiali post-consumo, che ha tre obiettivi fondamentali, che sono, come già venivano anche ricordati, obiettivi importanti a livello nazionale ed europeo, la riduzione della produzione dei rifiuti per Roma di 200.000 tonnellate, la raccolta differenziata, 70% al 2021, un'impiantistica sostenibile. Siamo fortemente impegnati nel Paes, che è il piano per l'energia sostenibile e per il clima. Siamo fortemente impegnati in azioni di riforestazione urbana e di regolamentazione anche della gestione e manutenzione del verde nel territorio comunale. Siamo fortemente impegnati nel raggiungimento di obiettivi di mobilità sostenibile. E allora vorrei evidenziare che queste funzioni fondamentali di monitoraggio, di controllo, di ricerca, di informazione, a supporto di tutti i livelli istituzionali, è fondamentale. È evidente che gli enti territoriali, ma in particolare i comuni, che gestiscono appunto in prima linea queste dimensioni, questi profili, che sviluppano, che attuano politiche di sostenibilità, che sono chiamati ad attuare politiche di sostenibilità, possono svolgere comunque un ruolo primario, e qui nasce questa necessità di un confronto importante, sia nella fase di predisposizione di norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazione e di controllo, sia anche nell'individuazione delle priorità ambientali da affrontare sia sotto il profilo operativo che sotto quello strettamente normativo. In particolare però i comuni, e nella mia esperienza l'ho sperimentato in modo anche molto forte, hanno veramente a disposizione, grazie ad Ispra, in particolare alle agenzie, una straordinaria opportunità di supporto, perché possono avvalersi di competenze importanti, delle migliori competenze sulle varie tematiche ambientali, e quindi possono anche avere e svolgere una straordinaria occasione di partecipazione attiva, sia poi sviluppando politiche di educazione e di formazione ambientali che sono essenziali. E allora riteniamo che sia importante la partecipazione dei comuni, anche attraverso l'ANCI, importante nell'interagire con le attività di indirizzo e di programmazione, di valutazione dei prodotti dei tavoli tecnici istituiti nell'ambito del sistema, perché la sostenibilità in questo nostro Paese potrà essere realizzata se le città avranno un ruolo in questo senso essenziale. Grazie.